Alla galleria Onos Art, in via del Fili 35 a Roma, espongo una serie di acquarelli, certi di grande formato, su quello che Roma ha significato non soltanto dentro di questa città, ma anche l'impero che Roma ha creato. Questo è anche un viaggio per il Mediterraneo. Ci sono delle cose che partono dal Marocco, a Volubilis, cose che stavano sfortunatamente in Siria, a Palmyra, c'è alcun pezzo su qualcosa di Aleppo, ma in ogni modo per me l'idea era riunire con questo titolo a Roma la memoria presente, una specie di eredità di quello che Roma ha lasciato nell'architettura, nella sua maniera di spadersi, perché è importante che questa gente, questi personaggi arrivavano a posti lontani, ma la prima cosa che voltavano era la cultura. C'erano i teatri, c'erano le terme. C'era la possibilità che la gente che arrivava imparava molte cose di questa specie enorme calidoscopio che è stato sempre in Roma e che continua ad esserlo. Grazie. 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 Grazie.